Una stagione in una grande squadra, come ti trovi più amato? Molto bene, benissimo, fin dal primo giorno sono stato accolto benissimo sia dai compagni che dallo staff, dal direttore, tutti la curva è spettacolare, quindi tutto il top Cosa significa per te vestire questa maglia gloriosa? Ma significa tantissimo, quando si cammina qua per gli spogliatoi si vedono tutte le foto storiche di giocatori quindi è un motivo di grande orgoglio e anche una responsabilità abbastanza rilevante però mi piace, mi piace molto Parliamo del campionato, 27 punti in 11 partite è un ruolo di marcia importante? Sì, assolutamente, siamo partiti come meglio non si poteva poi le partite non si possono vincere tutte quindi anche domenica abbiamo trovato delle difficoltà perché le squadre comunque sono comunque toste hanno delle individualità importanti e comunque ci daranno sempre del filo da torcere quindi la stagione sta andando bene e cerchiamo di farla andare sempre per il verso giusto Quanto pesa quel 16 nella casella di gol subiti? La cosa che c'è da migliorare la cosa da migliorare lo sappiamo fin dall'inizio sappiamo tutti, è sotto gli occhi di tutti che prendiamo un po' troppi gol ma comunque lavoriamo, lavoriamo sempre ci mettiamo al massimo dell'impegno siamo la linea difensiva a parte Aldrovandi siamo tutti giovani alle prime esperienze col calcio vero e quindi ci vuole tempo per lavorare e per andare via via colmando questo deficit che forse è l'unico problema che abbiamo dall'inizio della stagione Per me è la miglior squadra in Serie D, miglior attacco Certo, certo ma davanti abbiamo, lo sapevamo fin dall'inizio abbiamo delle qualità straordinarie dei giocatori straordinari di categoria superiore stanno facendo delle cose incredibili che addirittura non pensavo fossero così forti ma stanno facendo veramente tanta roba e sarà la marcia in più che avremo per tutta questa stagione Per quanto si è visto fino adesso secondo te qual è la vera avversaria del Mantua? Fino adesso il Fiorenzuola ho visto che sta tenendo botta ma secondo me a lungo andare il Franciacorta sarà la rivale numero uno senza non togliere le altre ovviamente che stanno tenendo il passo abbastanza bene Mezzolara, Fanfula, la stessa Correggese stanno facendo un bel campionato Come la vedi la partita di domenica contro il Fiorenzuola? È uno scontro diretto? Può essere decisivo secondo te? Assolutamente sì perché le partite sono come sappiamo tutte importanti quella di domenica sarà forse la più importante dall'inizio della stagione perché comunque se dovessimo vincere allungheremo di un po' il gap che avremo che ci distacca da Fiorenzuola sarà ancora più alto quindi poi ovviamente ci sono tutte le altre squadre dietro ancora non c'è una rivale numero uno come hai detto quindi non si può guardare risultati anche di altre squadre bisogna stare attenti a tutte comunque sarà una partita come le altre che è da vincere Senti, quella è la partita più bella che hai fatto fino adesso? Vado, fino adesso non ne ho fatte tante purtroppo però scelgo quelle a Fanfula che sono state più importanti anche per il risultato